Sapevate che solamente con 2 euro potete effettuare un giro in gondola? Ebbene sì, noi siamo arrivati al traghetto Santa Sofia che ci porterà solamente dall'altra parte del canale e arrivare al mercato del pesce. Come potete vedere ci sono degli orari e solitamente alle 19 chiudono. Solitamente la gondola turistica costa 80 euro di giorno e 100 euro di notte e con mezz'ora vi fa visitare tutta Venezia. Però con questa gondola solamente 2 euro potete in 3-4 minuti attraversare il canale, giusto il tempo di fare qualche foto, qualche storia, qualche video da mandare ai vostri amici. Ma anche di togliervi l'ospizio di salire sulla gondola andando a Venezia. Come potete vedere la gondola è abbastanza grande e comoda rispetto alla classica gondola turistica. Giusto un paio di minuti attraversiamo questo canale e arriviamo al mercato del pesce, famosissimo a Venezia. Un piccolo consiglio per poter risparmiare andando a Venezia. Un piccolo consiglio per poter risparmiare andando a Venezia. Un piccolo consiglio per poter risparmiare andando a Venezia.